San Policarpo era discepolo di San Giovanni, l'Evangelista, quindi stiamo proprio nei tempi apostolici, Vesco di Smirne, morirà martire, pensate morirà bruciato vivo, stamattina facendo il pensierino alla comunità durante la celebrazione dicevo provate a pensare un attimo quando penso anche a voi qualche volta è successo mentre mettiamo la pentola ci bruciamo un po' con la mano oppure qualche volta vicino al fuoco brucia e così su una stufa e ci bruciamo e sentiamo un dolore terribile e dicevo pensate a questo questo uomo non l'unico chiaramente è stato bruciato proprio vivo e lui si è offerto al Signore come con tutto il suo corpo in suave odore questo deve essere poi il senso ultimo poi della nostra vita poterci offrire in tutto al Signore e allora quindi poter cogliere anche in quelle che potrebbe essere un'ascoltatura offrirci al Signore e anche quello deve essere un dolore di testo offrirci al Signore una contrarietà a poterci offrire al Signore però vedete tutto può risolversi in offerta al Signore se tra noi il Signore si crea un legame si crea una comunione se il Signore è il Signore io credo che non non c'è troppa comunione se è il Signore se il Signore poi diventa un interlocutore diventa un tu diventa una realtà che mi sta davanti mi sta di fronte con la quale io posso parlare posso entrare in dialogo posso entrare nell'incontro e anche nello scontro allora io penso che qualcosa poi possa cambiare questo perché mi sto introducendo nei brani che noi ascolteremo questa sera che sono i Vangeli che noi abbiamo ascoltato domenica scorsa l'altra domenica e l'altra domenica ancora precedente quello che nel Vangelo di Matteo abbiamo dal capitolo 5 fino al capitolo 7 sono tre capitoli che gli studiosi lo chiamano il discorso della montagna vi ricordate noi abbiamo detto che quest'anno stiamo vedendo un po' il Vangelo di Matteo e Matteo costruisce il suo Vangelo attorno a cinque grandi discorsi questo discorso diciamo da molti viene chiamato il discorso anche programmatico quasi come se Gesù ci desse il programma da poter poi seguire e chiaramente come tutte le indicazioni che il Signore ci dà come tutto meglio come tutta la rivelazione che il Signore fa di se stesso non è mai una rivelazione compiuta una volta e per sempre ma una rivelazione che continuamente si svela ai nostri occhi ancora di più al nostro cuore ed ora Ernesto diceva adesso nella preghiera abbiamo bisogno molte volte che qualcuno forse ci aiuti a cogliere a vedere qualcosa che noi potremmo non cogliere non potremmo vedere perché succede sempre così quando noi ci siamo dentro o quando siamo troppo abituati qualche volta anche quando ascoltiamo sempre la stessa voce forse non potremmo rendersi conto di qualche sfumatura quante volte capita che noi ascoltiamo anche una lettura letta da un altro con un accento diverso o semplicemente che sottolineo un verbo diversamente pare che in quel momento capiamo che sa qualcosa si apre un mondo davanti a noi e questo significa che noi siamo delle persone in crescita significa che la nostra fede è una fede che è chiamata a crescere il problema nostro è che possiamo pensare poi questo lo svilupperemo a ritiro che la nostra fede anche la nostra conoscenza di Dio sia quella e basta noi mercoledì piacendo al Signore inizieremo la Quaresima ci faremo questa domanda a ritiro e sarà la domanda che poi accompagnerà tutta la Quaresima sapete la Quaresima è caratterizzata dalla conversione ma dobbiamo convertirci a che cosa? perché se io non so mi devo convertire ma che cosa? allora che cammino inizio? dobbiamo andare a Visciano quindi so che dobbiamo fare l'autostrada per andare verso Avellino e altrimenti andiamo dove? qualche volta il rischio che noi corriamo che siamo dei peregrini senza meta e sapete che succede? giriamo a vuoto e quindi c'è un dispendio di energia nella nostra vita che poi alla fine e siamo stanchi e che cosa abbiamo fatto? niente l'importante è avere una meta davanti ai nostri occhi e anche se a quella meta poi ci arriviamo pian piano però l'importante è sapere che i nostri cammini i nostri passi sono verso quella meta non è importante se arriviamo alle 10 o alle 10 e mezzo molte volte quando un figlio viaggia la mamma dice non ti preoccupare anche se più tardi non c'è problema perché arrivi tranquillo così anche con il Signore il Signore non è che ci ha detto alle 10 e mezzo tu devi sapere tutto di me ci ha detto semplicemente una cosa apriti a questa conoscenza di me e vedete sarebbe interessante chiederci se tutta la nostra vita non è in vista di questa conoscenza del Signore però lo sapete a livello umano quando io conosco la ragazza la mia fidanzata voglio stare con lei io la conosco e la frequento e tutta la mia vita in relazione con lei è poterla conoscere sempre di più quindi ci deve essere questo desiderio da parte mia se voglio conoscere quella ragazza chiediamoci se ci vuole essere il desiderio da parte nostra di voler conoscere il Signore il Catechismo una volta ci insegnava che noi siamo stati creati per conoscere, amare servire il Signore per goderlo poi un giorno in paradiso era una frase lì sul Catechismo di San Pio X era una frase che a nostro cuore poteva dire qualcosa e allora questa rivelazione che il Signore ci fa è la rivelazione che noi tra di noi ci facciamo perché non lo dimentichiamo dall'incarnazione in poi Gesù l'ha detto quello che ti ha fatto all'altro l'ha fatto a me e quindi anche l'altro è rivelazione del Signore nel Vangelo di oggi vi ricordate che partecipate alla Messa dove Gesù diceva se devi avere anche un solo bicchiere d'acqua nel nome di Cristo ricordate nel Vangelo di Matteo capitolo 25 quello che hai fatto all'altro l'hai fatto a me attenzione perché lì Gesù non dice come se lo avessi fatto a me ma l'hai fatto a me quindi c'è questa identificazione piena tra l'altro è Gesù Cristo ricordate ancora quando San Paolo sulla via di Damasco c'è la conversione e Paolo dice Signore chi sei? e il Signore risponde io sono quel Gesù che tu perseguiti e Gesù era già morto e risorto come faceva a perseguitarlo? lo perseguitava in quei fratelli in quei cristiani e quindi ancora vedete una volta c'è questa identificazione tra l'altro è Cristo Gesù ora davanti a noi si apre questo primo discorso ripeto chiamato discorso della montagna perché come dice il termine evidentemente la montagna ha un posto particolare in questo discorso tenete presente una cosa noi già l'abbiamo detto quando facemmo gli incontri introduttivi sul Vangelo di Matteo che Matteo ha un interesse particolare nella sua mente far capire ai suoi che erano ebrei e ci sono convertiti ci stanno convertendo al cristianesimo quindi vivono in una fase di passaggio e voi lo sapete i passaggi non sono facili quando da una situazione passiamo a un'altra da un parroco passiamo a un altro da una casa passiamo a un'altra da un modo di intendere passiamo a un altro questi passaggi qualche volta possono essere traumatici allora Mosè sta facendo capire a questi fratelli che da ebrei stanno diventando cristiani quindi hanno accolto Cristo nella loro vita che per l'ebreo c'è una persona che è fondamentale il profeta per eccellenza e sapete chi è per l'ebreo il profeta per eccellenza? Mosè quindi quando l'ebreo pensa al profeta per eccellenza all'uomo di Dio a colui che parlava con Dio faccia a faccia subito pensa a Mosè e vi ricordate Mosè con Dio quando è che vive un dialogo particolare e Dio a Mosè fa un dono particolare quelli che noi chiamiamo i dieci comandamenti il decalogo vi ricordate dove avviene? sul monte quindi Mosè sul monte riceve la parola del Signore Mosè quando scende dal monte quella parola del Signore la porta al popolo quindi il popolo di Israele capisce che sul monte Dio gli ha parlato ha parlato a Mosè e quindi Mosè diventa il mediatore della parola del Signore ora a Matteo importa far capire ai suoi che c'è un nuovo Mosè e questo nuovo Mosè è Gesù Cristo e vedete come inizia il primo discorso il discorso della montagna inizia proprio così vedendo le folle Gesù salì sul monte si pose a sedere e si avvicinarono a lui e i suoi discepoli si mise a parlare e insegnava loro dicendo quindi capite vedendo le folle Gesù sale sul monte quindi l'ebreo subito capisce sul monte chi saliva una volta era salito Mosè quindi sta dicendo quasi attenzione che questo Gesù allora forse sta per rivelarci qualcosa di importante perché noi l'abbiamo già detto se ricordate il monte è il luogo elevato ricordate la volta scorsa diciamo quando Gesù chiamò gli apostoli bisogna salire sul monte salire non è sempre facile salire vuol dire che tu ti astrai per un attimo da ciò che è più terreno e ti avvicini un poco di più al cielo siccome è un cielo dove abita Dio quindi sul monte c'è una comunicazione più diretta tra Dio e con lui che poi sale sul monte quindi Gesù sale su questo monte e su questo monte quindi sta per avvenire qualcosa però attenzione perché nel testo si mise a parlare e insegnava loro Mosè parlava e insegnava lui no Mosè ha consegnato che cosa la parola che Dio aveva dato a lui i dieci comandamenti quindi Mosè trasmette una parola ricevuta da Dio qui invece chi è che parla è Gesù stesso quindi chi è superiore Mosè o Gesù e perché Gesù è superiore perché mentre Mosè trasmette una parola qui è Gesù stesso che trasmette la parola quindi vedete già in questa affermazione Matteo sta dicendo alla sua comunità la superiorità di Gesù rispetto a Mosè quindi se lì Dio ha dato i dieci comandamenti e ve lo sapete l'ebreo vive la sua vita attorno ai dieci comandamenti purtroppo ne fateci caso quando facciamo l'esame di coscienza lo facciamo sui dieci comandamenti quindi ancora noi continuiamo a considerare il decalogo come il punto di riferimento attorno al quale poi verifichiamo la nostra vita quindi se lì così allora adesso qui c'è un'altra parola che sta per uscire dalla bocca non più di uno che è mediatore ma addirittura lui stesso ha questa autorità e Dio stesso le sta parlando quindi la comunità di Matteo capisce subito questa superiorità di Gesù Cristo quindi Gesù sale su questo monte e qui si siede e si avvicina a lui i suoi discepoli vedete anche quanto è bella questa scena Gesù che siede siede il maestro ancora una volta Gesù come maestro che parla alla sua comunità e attenzione non sta semplicemente dicendo delle cose tanto per dire sta dando alla sua comunità essendo anche a noi quindi alla chiesa gli studiosi lo chiamano il manifesto cioè delle tracce delle piste una via che il credente è chiamato a seguire attenzione perché le abbiatitudini non sono un'opposional nella nostra vita di cristiani le abbiatitudini non è che sono una cosa facoltativa è un modello sublime di vita che il Signore attenzione dona la sua comunità le abbiatitudini sono un dono non sono un dovere è la bellezza del dono sapete dove sta perché le abbiatitudini a cosa richiamano come dice la parola a essere beati fateci caso come martellante nei Vangeli anche qui è una litania beati i poveri in spirito perché di essi il regno dei cieli beati quelli che sono nel pianto perché saranno consolati beati i miti perché vedete beati è una litania però in Italia quasi come martellante quasi a dire fai entrare nel tuo cuore dentro di te questa convinzione che sei chiamato essere beato traduciamo meglio perché fosse beato a noi può un po' equivocarci essere felice il cristiano esiste ed è chiamato solo da questo da Dio ad essere felice chi di noi non vuole essere felice tutti tendiamo alla felicità qualche volta noi confondiamo però che cosa sia la felicità o l'abbiatitudine qualche volta vedete non so se qui si usa l'espressione delle parti mi si usano dice beata a te e noi vogliamo intendere beata a te che sei scema e non capisci niente così questo lo intendiamo con questa sottolineatura beata a te qui non è beata a te perché sei scema e non capisci niente qui quello che Gesù dice è beato a te proprio perché hai capito la situazione della vita e anche se vivi queste situazioni particolari che attenzione non è beata la povertà non è beata l'afflizione ma tu che trovi a viverti in una situazione di povertà di afflizione sappi che queste cose non ti allontanano da Dio perché la mentalità sapete qual era l'uomo prosperoso l'uomo pieno di salute l'uomo pieno di beni benedetto da Dio l'uomo non prosperoso l'uomo sofferente l'uomo malato maledetto da Dio allora ancora una volta Gesù vedete mette all'interno del cuore dell'uomo una strada diversa una logica diversa una intuizione diversa un modo diverso di potersi avrire alla vita la vita l'abbiamo detto anche la volta scossa ricordate non è semplicemente la somma dei nostri guai o dei nostri fallimenti è vero la situazione che oggi stiamo vivendo sembra dire questo però il Signore sta dicendo che attenzione perché proprio in questa realtà dove tutti gli ati direbbero il contrario attenzione perché tu puoi vivere una dimensione particolare che è quella della consapevolezza della presenza e della vicinanza di Dio non semplicemente Dio c'è ma Dio ti è vicino che è diverso che il Signore ci sia perciò dicevo prima no che un Signore abbia creato il mondo tutti quanti lo possiamo ammettere e credere in questo ma chiamiamolo Signore chiamiamolo come lo potete chiamarlo voi ma che si è fatto vicino incarnando Lui questa realtà e quindi in questa realtà io mi trovo e trovo Lui ecco dove sono beato ecco alla felicità ecco come cambia poi a questo punto il mio modo di rapportarmi alla vita vedete in questa realtà di questa ideale a cui Gesù vuole che noi ci ispiriamo quello che Gesù ci sta chiedendo e lo chiede in tutto il capitolo 5, 6, 7 provate a pensare poi lo vedremo noi il Vangelo di Domenica scorsa amate i vostri nemici chi ti percuote tu poggi l'altra guancia meno male che ne abbiamo solo due di guance altrimenti chissà che ci combinerebbero Gesù ci sta dicendo in ultima analisi fateci caso che il problema è nel modo di guardare quindi mi chiede profondamente la conversione diciamo prima a convertirmi a un modo diverso non più allora semplicemente di guardare la situazione esterna ma di iniziare a guardarmi diversamente perché molte volte il guaio di noi sapete che cos'è? noi siamo il guaio noi a noi stessi molte volte il male più grande lo facciamo noi a noi stessi non ce lo fanno gli altri e noi questo non lo possiamo e non lo dobbiamo permettere ma non perché come ci ha detto domenica scorsa ci opponiamo con la forza tu non devi perché Gesù ha detto a chi ti percuote la guancia destra tu poggi anche la sinistra cioè significa a chi ti vuole fare del male ecco tu non è che rispondi al male con il male perché attimendi sta catena e non si interrompe mai se tu riconosci il male riconosci che quello è un male non lo puoi fermare facendo altro male perché attimendi quello che denunci tu poi lo fai certo è la strada più semplice quella più comoda la prima più immediata ma non è questo ciò a cui il Signore ci sta chiamando allora davanti a chi ti fa del male forse tu dovresti capire che si è chiamato ad aiutarlo a fargli comprendere forse che sta facendo del male perché forse molto altro discorso è proprio questo che uno neanche ci si rende conto di quello che sta facendo allora questa attenzione questa attenzione all'altro l'attenzione a me stesso che poi diventa l'attenzione all'altro ricordate quando c'è l'uccisione di Abele e Dio chiede a Caino Caino ma dov'è il tuo fratello Abele? nel capitolo 5, 6 e 7 quando poi dice voi siete il sale della terra siete la luce del mondo l'abbiamo ascoltato anche questo due domeniche fa l'anno sta dicendo che la fede come luce come sale è qualcosa che tu la possa vivere tu per i fatti tuoi come qualcosa che ti possa dare un godimento ma perché vi risulta che il sale dà sapore è a se stesso perché vi risulta che la luce serve a illuminare se stessa la luce illumina noi il sale lo mettiamo nella pasta che poi noi mangiamo quindi il sale si scioglie nella pasta quindi il sale non serve a se stesso la luce non serve a se stessa noi non serviamo a noi stessi noi non siamo per noi stessi capito la dignità che io ho capito la mia beatitudine non è che poi che bello signore quanto tu mi vuoi bene e noi poi siamo convinti che la fede è questa no? la fede che vivo qualcosa interiormente la vivo io e Dio non è questa la fede la fede non è il mio rapporto con Dio ma la fede è la testimonianza che vivo all'interno di una comunità ma anche al di fuori di una comunità del rapporto che io ho con Dio diventa così vera e concreta che io cammino e sapete no? che la fede è proprio questo nel senso etimologico la fede dovrebbe significare un buttarti verso qualcosa di assurdo di assoluto sapendo che all'improvviso sarai preso troverai un punto dove ti fermerai ma quando arriverà a questo punto non lo sappiamo molte volte no noi pensiamo che sia una cosa positiva perché la persona non dà fastidio a nessuno e pensiamo che sia positiva come cristiano non è positivo questo perché Gesù qui quando ripeto sale e luce non sta dicendo state tranquilli per i fatti tuoi e partecipate a me si è fatta la preghiera si è stato pure alla catechesi poi tornate a casa sei tranquillo non è questo noi forse dovremmo imparare a chiedere perdono al Signore per tutte le volte che come cristiani non abbiamo dato fastidio a qualcuno io commentando il Vangelo di domenica scorsa alla comunità dove stavo lì ho detto io spero che quando torneremo a casa non mangiamo tanto tranquillamente ma che ci possiamo sedere un po' inquieti io ho fatto mi sono andato a parlare con un diacono che lavora nel carcere a Poggio Reale e lui mi diceva che si trovava a parlare con questi fratelli che alcuni partecipano al momento di catechesi commentando proprio il brano che abbiamo ascoltato domenica scorsa durante la messa e mentre stava parlando con questi fratelli carcerati mentre lui leggeva il brano ricordate no? avete detto che fu detto occhio per occhio e dente per dente ma io vi dico di non opporvi a malvagio anzi se uno ti dà uno schiaffo sulla guancia destra tu poggi anche l'altra e a chi vuole portarti in tribunale togliete la tunica tu lascia anche il mantello e se uno ti costringerà ad accompagnarlo per un miglio tu con lui fanno i due da a chi ti chiede a chi desidera di un prestito non voltare le spalle avendo detto anche che fu detto a me era il tuo prossimo e tra il tuo nemico ma io vi dico amati i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguono affinché se la figlia e il padre vostro ricordate e disse che mentre parlava così un carcerato si alzò e che si è permesso di tornare in cella e lui disse ma perché te ne vai e lui disse perché queste parole adesso non le posso vivere non riesco a viverle perché la persona che mi ha denunciato io quando uscirò andrò lì fuori così la picchierò domenica chi di noi durante la messa si è alzato e se ne è andato davanti a queste parole cioè queste parole dovrebbero dovremmo sentire proprio come degli schiaffi in faccio noi invece vedete ci siamo così a suoi fatti ma siamo onesti amati i vostri nemici ma noi riusciamo ad amare i nostri nemici a chi ci ha fatto del male o ci ha fatto soffrire a chi ti chiede un miglio tu fanne con lui due a ti chiedere la tunica tu dai anche il mantello ma stiamo scherzando almeno vabbè ma questa è una cosa perché vedete Gesù a che cosa ci invita ci invita sempre quando noi abbiamo l'impressione che abbiamo raggiunto la misura invece lui ci chiede di più perché ha detto il testo a chi ti chiede di farne un miglio tu fanno i due quindi non dipende neanche più da lui cioè lui ti chiede un miglio cioè tu devi essere così bravo da interpretare che devi fare due cioè lui ti ha chiesto la tunica tu anche il mantello gli devi dare chiaramente capiamo non si sta riferendo ad elezioni materiali tolgo il mantello tolgo la perché fare questo materialmente può essere relativamente facile fare questo materialmente cioè è questa disposizione interiore cioè questo perdono che lui chiede è mettere l'altro nella condizione che io non mi lascio più condizionare da quello che c'è stato tramite in modo negativo che è posto una rottura tra noi ora c'è bisogno di una consapevolezza per tutto questo che non è che adesso l'abbiamo capito usciamo qua fuori usciamo dalla chiesa e si realizza questo sarebbe da sciocchi pensare questo però significa che è un programma ma è un programma che io voglio percorrere cioè se capisco che qui c'è quel senso pieno alla vita perché poi la vita è questa allora la vita non è che io afferro affarro ma dono e provatevi invito per un attimo solo a pensare quando avete vissuto un momento di donazione sincera senza nessun interesse verso qualcuno se in quel momento non vi siete sentiti che il cuore proprio si allargava proprio all'infinito questo è il paradiso è vero poi purtroppo ci sono delle condizioni sociali temporali economiche che nel tempo poi ci portano a perdere di vista questa realtà e per cui diveniamo pochi egoisti vogliamo pensare un po' più a noi stessi lui viene deve venire lui da me no? mi sono scocciato e sapete io penso il segreto dove sta? il segreto sta proprio in quella fase iniziale in quel versetto iniziale quando detto così Gesù salì sul monte e si avvicinarono a lui i suoi discepoli il segreto è proprio questo avvicinarsi al Signore perché se io voglio guardare il mondo come lo guarda Dio io mi devo mettere dalla sua parte e ricordate l'altro incontro lo dicemmo Gesù chiamò a sé quelli che volle e andarono per stare con lui e quindi si sta con lui e se sto con lui è perché da lui poi imparo non è che sto con lui però poi resto ancora di nuovo nella mia mentalità nei miei schemi nella mia formazione quindi mi lascio scardinare da lui ma ce la farò e guardate poi grazie di Dio Pietro ce l'ha fatto e Pietro quante volte è caduto fino alla caduta massima o no vi ricordate non lo conosco proviamo a leggere la via di tutti i santi hanno camminato anche loro in questa via per raggiungere la perfezione allora come detto poi alla fine vi ricordate siate perfetti come perfetto il padre vostro celeste allora che cos'è questa perfezione la perfezione è l'amore è la carità guardate noi diceva San Giovanni della Croce noi alla fine della nostra vita saremo giudicati solo sull'amore non saremo giudicati sulle altre cose quel giorno il padre eterno non ci dirà a quanti incontri di catechesi abbiamo fatto in parrocchia e non ci chiederà neanche a quante messe abbiamo partecipato quel giorno il signore ci chiederà quanto hai amato e il problema è che come ci ha detto qui davanti cioè io non potrò dire ma io ho voluto bene a Don Ernesto perché come ha detto nel testo se voi amate quelli che vi amano che merito ne avete anche i pubblicani fanno altrettanto se tu fai del bene a chi ti fa del bene che merito ne hai anche chi non crede fa così non c'era bisogno di Gesù Cristo per dirci questo Gesù Cristo è vero cosa ci ha detto di fare del bene a chi il bene non te lo fa permettete un esempio banale generalmente quando sposa qualcuno si fanno le partecipazioni fateci caso il criterio qual è per invitare qualcuno se quello mi ha invitato al matrimonio di suo figlio quindi io ricambio perché mi ha invitato al matrimonio di suo figlio e se non mi ha invitato ah no non lo invito si racconta che c'era una vecchietta che ogni anno i vicini di casa andavano a fare una gita la cosiddetta gita fuori porta e ogni anno la invitavano quell'anno questi vicini di casa si dimenticano di andarla a invitare la vecchietta aspetta 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 e non succede niente i vicini chissano da che cosa la mattina mentre stanno per partire si ricordano che le hanno invitata la vecchietta te la vanno a chiamare il signor volete venire il signor non vi preoccupate vi ringrazio ho già pregato che venga a piovere vedete come ci lasciamo condizionare e provate a pensare se le nostre relazioni non è così provate a pensare se questo noi non lo facciamo neanche in chiesa fate a pensare quando scegliamo in chiesa dove andarci a sedere quando vediamo qualcuno che non c'è tanto simpatico così se non cambiamo banco cambiamo posto o qualche volta cambiamo anche messa questo deve interrogarci profondamente perché poi quando dicono eh ma voi di chiesa non hanno tutti i torti dall'altro se dicono che siamo peccatori è vero perciò non andiamo in chiesa perché siamo peccatori però se poi non perché sono peccatori ma perché mi antipatico simpatia è antipatia come si dice di natura però il discorso vedete è quello qualche volta in confessione a me capita chi viene a confessarsi che ha un diverbio oppure ha litigato con qualcuno io faccio questa domanda ma almeno nel tuo cuore c'è il desiderio di poterti riconciliare noi non voglio sapere niente ok allora è inutile che siamo venuti a confessare però se perlomeno nel cuore c'è lascia che non ce la fai non ce la facciamo ma c'è il desiderio tu già ti sei riconciliato se c'è il desiderio già ti sei riconciliato perché il Signore questo poi benedisce il Signore benedisce veramente e le occasioni poi per rafforzarci e per metterci la situazione davanti lui ce le offre ma se nel mio cuore c'è questo desiderio se invece a priori no non ne voglio sapere niente capite ecco perché vi dicevo all'inizio allora tutto sta il segreto è proprio quello il rapporto con lui la comunità la legge nuova dell'amore la si stabilisce la si accoglie la si vive diventa fattibile e reale dal rapporto con lui è dal rapporto con Cristo che nasce la comunità non tutto il contrario non è la comunità che fa nascere il rapporto con Cristo e io mi lui al centro mettendo lui al centro che poi fa nascere la comunità c'era un padre della Chiesa adesso non ricordo i nomi però questo esempio pareggia quello feci quando parliamo delle guaristie lui diceva immaginatevi Gesù Cristo al centro e poi una ruota con i raggi sapete la ruota tiene i raggi i raggi più si avvicinano al centro più si avvicinano anche tra di loro più un raggio si allontana dal centro più si allontana anche dagli altri raggi allora se Gesù Cristo è il centro noi siamo questi raggi noi più ci avviciniamo a Gesù Cristo ci avviciniamo anche tra di noi è inevitabile se ci avviciniamo a Cristo ma se mi allontano da Cristo mi allontano anche da chi mi sta a fianco certo è più facile vedete è più facile camminare da soli perché camminare da soli io ho il mio passo invece se già cammino io una persona un po' più anziana e io che devo fare? devo aspettare il mio passo sul passo della persona anziana ma io potrei correre e arriverei in un niente ma arriverei da solo però noi non siamo chiamati ad arrivare da soli siamo chiamati ad arrivare insieme ma impiegheremo più tempo ma arriveremo insieme è perché se mentre io sto arrivando sto andando lì mi sento male e mi trovo da solo davanti vedete non colgo neanche il fatto della compagnia che se succede qualcosa che sta a fianco poi mi può aiutare diceva San Giovanni diceva San Agostino commentando un passo di Giovanni Gesù li ha mandati a due a due non li ha mandati a uno a uno perché anche a due a due per ricordare tutti i due precetti della carità l'amore a Dio l'amore a prossimo e anche perché poi tutti e due possono aiutarsi l'un l'altro questa realtà ripeto che può sembrare difficile può sembrare esigente per carità nessuno dice che sia facile però chiediamoci quanto ho cercato io di poterla incarnare di poterla vivere una domanda Papa Francesco non avete mai sentito durante le catechesi in Pertra San Pietro dice faccio una domanda però dice non mi rispondete rispondete nel vostro cuore togliamo la domenica di mezzo quanti di noi durante la settimana se ne vanno un attimo in chiesa davanti a Gesù per dire non sto qui vediamo fammi capire ora è il momento della confidenza ora è il momento dell'intimità perché la messa così come è strutturata noi tanto tempo anche per poter riflettere non lo teniamo noi partecipiamo di questa abbiamo visto a questa celebrazione e lui c'è tutto il dono che ce n'è fatto affinché io poi diventi dono ma io con il Signore quanto tempo sto con lui? quanto tempo ad esempio se io proprio per conoscere anche le motivazioni di questa ma perché devo agire così? per capire la motivazione io a chi la devo chiedere la motivazione? a colui che me la sta proponendo cioè devo dire Ernesto ma tu perché hai fatto così? e il quello che non sapete qual è? che cerchiamo di dare una spiegazione a perché Ernesto si è comportato così però parlando tra me e te ma io e te non sappiamo perché Ernesto è comportato così andiamo da lui perché ti sei comportato così? se Gesù mi chiede così allora vado da lui dice ma io posso togli quello poi non mi parla sapete perché non mi parla? perché io non l'ascolto perché io non so ascoltare perché questa è una cosa che purtroppo abbiamo dimenticato tutti quanti ascoltare ascoltare è difficile perché nel momento in cui iniziamo a fare silenzio abbiamo paura del silenzio perché quando facciamo silenzio inizia a uscire fuori tutto noi stessi e noi qualche volta per tacere noi stessi parliamo è vero se io non so stare in silenzio devo abituarmi devo educarmi a silenzio allora vuol dire che domani andrò in chiesa e starò 5 minuti e tra virgolette perderò tempo però ci vado pure dopo domani e ci vado ancora pure dopo domani come diciamo noi nessuno nasce imparato però il problema è che proprio perché nessuno nasce così abbiamo difficoltà e a questa scuola non ci mettiamo mai io devo arrivare fin lì e mamma mia è una parola arrivare fin lì ma certo un solo passo da qui al lì non lo farò mai però se faccio un passo oggi un passo domani così io ci arrivo lì gli sportivi che fanno fanno l'allenamento si allenano noi c'è un termine che viene usato a livello spirituale si chiama ascesi noi inizieremo la quaresima la quaresima dovrebbe essere questo allenamento spirituale però poi vedete se il signore mi fa il dono la proposta il di più poi aspetta a me cioè poi io devo io accogliere questo dono la proposta sono io che la devo accogliere il signore non è che mi puoi obbligare o imporre noi qualche volta vorremmo così ma lui non ci può imporre lui ci può proporre non imporre allora questo lasciarsi coinvolgere avere il coraggio di lasciarsi coinvolgere guardate noi non siamo migliori ma hanno cose però dovremmo essere differenti io non sono un migliore rispetto a chi in chiesa non viene ma dovremmo essere differente rispetto a chi in chiesa non viene il gioco sembra la differenza sembra sottile però è così se ce lo dicono in negativo no tu sei quello è quello che va in chiesa ce lo dicono in positivo quello quello è in chiesa in positivo vedete pure qui no come l'accento cambia è come detto nel testo perché vedendo le vostre opere buone glorifichino il padre vostro che ne cieli quindi vuol dire che la gloria a Dio viene data dalle nostre opere buone è l'opera è qualcosa che si vede non qualcosa che uno la immagina le nostre opere sono visibili in positivo e in negativo per l'opera negativa maledicono per quella positiva benedicono e ripeto ancora una volta qui è sempre quello Gesù sale sul monte e si possa sedere e si avvicinarono a lui i suoi discepoli allora questo dobbiamo imparare dobbiamo imparare ad avvicinarci a lui avvicinarci a lui con tanta confidenza con tanta umiltà con tanto amore come ci avviciniamo a un amico e l'amicizia nasce frequentandosi più ti frequento più c'è intesa più troviamo punti che ci accomunano più iniziamo a pensare allo stesso modo più iniziamo a progettare la stessa cosa più iniziamo a far sì che l'idea tua diventa anche l'idea mia chi di voi è genitore il figlio che ha un amico se iniziano a frequentarsi tante volte con l'amico a un certo punto pare che si assomigliano pure gli amici iniziano quasi a pensare allo stesso modo si anticipano anche nell'idea da che cosa? da frequentarsi perché nel frequentarsi chiaramente se non dici sciocchezze tu inizi a dire tu chi sei ti inizi a rivelare inizi a dire i tuoi desideri dico anche i miei desideri quindi capisco anche può sembrare una battuta però vedete quando si è fidanzati il fidanzato o la fidanzata sa il gusto della pizza che piace alla sua ragazza sa il gusto del gelato perché lo sa? perché l'ha indovinato? no perché tenendo in mente altre volte scende insieme lui ha detto mi piace la margherita quindi automaticamente quando va lì gli regala la pizza di margherita ah ma ti sei ricordato di me provate a pensare se questo poi non ci fa bene quando sappiamo che l'altro poi sa quella cosa che a noi piace voi pensate che il Signore non goda quando noi gli diciamo qualcosa che a lui possa piacere o facciamo qualcosa che a lui possa piacere pensate che quando noi facciamo ecco come il Signore si dispiace quando facciamo un'azione negativa un peccato provate a pensare se lui gode ed è felice quando noi facciamo una cosa buona quindi non è vero che la cosa buona resta per te no un momento rende gloria a Dio allora quindi si riscatta vedete quella situazione da un'utilità immediata una mia gratificazione anche se poi a un certo punto entra pure siamo esseri umani entra pure la gratificazione che lui mi dice grazie come sei stato bravo mi fa piacere mi impegna ancora di più a migliorarmi questo certo però poi la capacità anche di poterla portare al Signore e quindi la riscatto da una realtà immediata per poi aprire qualcosa di più grande allora quindi tutto questo vedete anche come ha detto vi ricordate l'altra domenica se la vostra giustizia non supererà quella degli scrivi e dei farisei non enterete nel regno dei cieli perché appunto il problema qual è anche qui è quello di un'osservanza formale la messa la messa i dieci comandamenti i dieci comandamenti la preghiera la preghiera la carità la carità però nel momento in cui l'ho fatto poi ho messo tutto a posto non è l'osservanza formale perché la formalità non ha mai cambiato niente nel Vangelo di oggi Gesù diceva se il tuo occhio ti è motivo di scandalo cavalo gettalo se la tua mano ti è di scandalo tagliala se il tuo piede taglialo chiaramente Gesù non sta chiedendo di tagliare la mano poveri noi sapete come saremo dei moncoli quello che Gesù ci fa anche qui vedete la conversione perché che cosa muove la mano? è la mente io mi taglio a mano che può commettere il peccato no mi rubo la croce qua sopra quindi la rubo attraverso la mano ma da dove hai partito? dalla mente quindi dovrei cavarmi la mente invece è la mente che devo convertire quindi la mano benissimo può stare qui se cambia la mia mente quindi anziché usare la mano per rubare uso la mano per donare anziché usare la mano per chiudere uso la mano per raccogliere la mano è quella che resta lì da che cosa poi la spingo? se non supererà perché gli scrive farisei era così abbiamo la legge e noi serviamo la legge ma San Paolo ci ricorda che noi non siamo salvati dalla legge noi siamo salvati da Cristo Gesù è Cristo che ci salva non la legge ripeto l'ho detto prima come esempio non è la messa che mi salva ma quello che avviene durante la messa è che mi apre mi converte io colgo fate questo in memoria di me come finisce la messa andate grazie immagino come ho detto prima il sale della terra è la luce del mondo voi voi siete il sale della terra voi siete il sale della terra voi siete la luce del mondo noi capite noi che domenica stavamo in chiesa l'abbiamo ascoltato noi che adesso qui li stiamo ascoltando noi non quelli che stanno là fuori perché un giorno Gesù dirà ma io le ho dette a te queste parole non le ho dette a quelle che stavano là fuori e come ho detto prima no il sale il sale deve dare sapore Gesù lo dice no se il sale non dà sapore non serve a null'altro che essere gettato dagli uomini e calpestato gettato e calpestato dagli uomini cioè è indifferente l'ho detto prima noi non possiamo essere indifferenti ma non perché io vengo qui e faccio la scenata a Ernesto perché lui e io come cristiano gli faccio la scenata così non per questo ma già l'esserci e l'esserci in un modo determinato questa è la differenza io quando faccio l'incontro con i giovani che stanno per sposarsi dico loro che può sembrare una banalità dico voi vi sposate ma vi sposate come cristiani non vi sposate come due musulmani con tutto il rispetto al matrimonio che fanno i musulmani perché anche quello è il matrimonio sapete il matrimonio è una legge naturale poi Gesù Cristo è il nostro il matrimonio l'unione dell'annominatore l'ha levato a sacramento ma anche quello è il matrimonio anche chi sposi civilmente cioè vive il matrimonio però voglio dire ecco tu che hai scelto di sposarti in chiesa e chi in chiesa ha scelto di non sposarsi tu ti sposi come cristiano quindi sei chiamato a vivere la tua unione diversamente da chi si sposi di chi si sposi la comune si può fare le stesse cose di chi si sposi in comune ma mi sa dire la differenza dove sta noi ecco di inizieremo la quaresima nella quaresima c'è una differenza no? digiuno astinenza preghiera lemosina va bene facciamola ci inizieremo con la cenere in testa ma è un segno solo di cenere in testa perché per noi siamo fuori c'è un po' di vento la cenere ce la toglie a parte che non so ce ne mettono poco poco perché altrimenti poi si fanno i capelli però sarebbe bello ci vorrebbero ma come segno come segno sapete che nella chiesa antica perché c'era questo segno qui delle ceneri perché si faceva i peccatori pubblici nella chiesa antica la penitenza era molto più severa rispetto alla nostra guardate a pensare noi adesso quando una persona si viene a confessare gli diamo l'assoluzione e poi diamo la penitenza che è generalmente una preghierina che bisogna fare nella chiesa antica il procedimento era l'inverso si veniva a confessare prima c'era la penitenza faceva la penitenza e poi si veniva e riceveva la riconciliazione se aveva fatto la penitenza la penitenza non era una preghierina molte volte le penitenze duravano anche anni e queste cose le venivano fatte davanti alla vesco si facevano nella chiesa antica quindi il penitenza andava dal vesco in privato diceva i suoi peccati che aveva commesso poi il vesco pubblicamente ai penitenti il mercoledì delle ceneri dell'ultima tappa della loro conversione con un abito tipo come diciamo un po' quelli dei francescani con il cordone e in atteggiamento penitenziale con le ceneri iniziavano pubblicamente l'ultimo tratto della penitenza pane e acqua senza pure senza vivere la comunione con gli altri e poi li riconciliava il giovedì santo se iniziamo il cammino quaresimale no? e questo cammino quaresimale è il proiettato verso la Pasqua e allora ci deve essere qualcosa che deve muovere questi miei passi verso la Pasqua io non mangio la carne e guardate non cambia niente che non mangi la carne forse ti puoi fare solo del bene ma quella carne che tu non mangi e quindi ti privi di quella cosa quanto costa? 10 euro quella 10 euro quella deve diventare condivisione con chi la carne non che non la mangia non la può mangiare perché non la tiene perché se io la tolgo dalla mia mensa e qualcuno affiancami muore di fame quella carne che io tolgo diventa maledizione e quindi apertura ho detto prima la conversione è apertura degli occhi a chi ha bisogno quindi io mi privo per condividere con chi ha bisogno oggi digiuno fa bene lo sapete i mezzi stanno dicendo queste nutrizionistiche una giornata di digiuno non guasterebbe nella vita però ripeto ma non perché diciamo ma nella linea perché noi così vediamo per me la linea no è quella privazione per dire che ho bisogno di altro però questa privazione deve diventare condivisione con chi non l'ha allora qui poi si può fare il progetto chiaramente ok io poi devo capire fino a quaresimale io posso anche dire io non lo so è difficile che io non sappia che qualcuno se ne ha bisogno perché attorno a noi ci sono che sono di bisogno ok porta la caritas poi sono forme questo caso si inventano diceva Stavio Vincenzo De Paolo che la carità è inventiva fino all'infinito però quello che voglio dire ecco ancora una volta sale e luce la differenza ci sta bisogna dare questa differenza allora il nostro esame di coscienza deve essere questo non semplicemente in dieci comandamenti ho bestemmiato ho dato a messa ho rispettato il prossimo ho rubato ho giurato il falso vedete pure qui siamo legalisti ho amato ho illuminato ho riscaldato ho insaporito quante volte noi sentiamo qualcuno dice la mia vita non ha senso è una vita sciapita quando la vita non ha senso no col mio parlaglio o stagli vicino sono riuscito a fargli capire un poco della bellezza della vita a fargli trovare un poco di senso il fatto di avere una mano sulla spalla così è stato di incoraggiamento l'ho detto prima noi il Vangelo di oggi parlava di un bicchiere d'acqua si è dato un bicchiere d'acqua un bicchiere d'acqua ci pensate che è una sciocchezza un bicchiere d'acqua e fosse il problema nostro proprio questo proprio perché è una sciocchezza non ci facciamo caso perché noi pensiamo mamma mia che ama fa per essere cristiani chissà quali segni grandiosi o straordinari un bicchiere d'acqua se riscoprissimo la bellezza di questo gesto così piccolo così semplice così insignificante dare un bicchiere d'acqua bene ringraziamo il signore abbiamo per completare un'ora abbiamo dieci minuti per completare un'ora perché no perché altre volte sono andato oltre quindi devo chiedere scusa no 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 nel senso per mai rimasto stavo pensando alla sala al piatto di pasta il sale cose non avevamo dubbi se qualcuno vuole porre una domanda un dubbio una perplessità una gioia posso io posto ho posto un'immagine domenica scorsa che di Dio per quanto riguarda i fiori che profumano ma va bene anche per il sale no ho posto questa immagine ho detto specialmente noi qua a Casandrino noi abbiamo il periodo della festa si usano le tuberose bellissimo 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 e ho detto Dio è amore è amore sempre per il fatto fa sorgere il sole sopra i giusti e sopra gli giusti eccetera eccetera così e ho usato questa immagine per dire un fiore non è che profuma quando c'è uno che è pieno di bontà profuma quando passa qualcuno che ha il cuore pieno di di non bontà non profuma profuma sempre questo vale anche per il sale il sale e sale sempre il sale non cambia la sua sostanza no però aiuta si scioglie eccetera eccetera è giusto dire che il cristiano deve amare e il Vangelo ce lo dice e tu ce lo stai dicendo ma deve amare non come imposizione deve amare al di là della simpatia dell'antipatia del mi conviene non mi conviene del calcolo così ma deve amare già mi fa difficile quando dico deve amare è giusto dire il cristiano può amare come questo Dio che ama i giusti e gli ingiusti fa piovere sopra i buoni e i cattivi profuma per i buoni e per i cattivi cioè è giusto pensare che noi possiamo non arrivare eppure sbagliate il termine arrivare arrivare dobbiamo così ma l'unione con l'amato ci fa essere questo è giusto desiderarlo e seconda domanda e questo desiderarlo è possibile umanamente che si avveri nonostante la fragilità del peccato mi sono fatto un po' la seconda domanda è più facile la seconda domanda se si arriva a questa realtà sì perché altrimenti Gesù non ce l'abbia proposta tutto quello che Gesù ci ha proposto vedete lui l'ha vissuto attenzione non non banalizziamo diciamo ma Gesù quello può essere figlio di Dio sì Gesù è figlio di Dio però non dimentichiamo che quello che l'ha vissuto l'ha vissuto in quanto uomo Gesù vi ricordate è stato schiaffeggiato dal sommo sacerdote durante il processo è stato rifiutato Gesù dai suoi compaesani ha vissuto le difficoltà e quindi le ha realizzate e quindi si può sì e lo si deve desiderare lo si deve volere se lo si vuole però non dimentichiamo che nel Vangelo di Giovanni ci sono un certo punto dice così cita il fatto che si deve amare e su un certo punto nel Vangelo di Giovanni dice così vi do un comandamento nuovo questo io vi comando chiaramente è da intendersi quel comandamento questo io vi comando lo sapete il Signore non è che ci vuole soldatini o burattini ma semplicemente ci dice dire vi comando cioè è come se volessi dire io vi richiamo non rimprovero richiamo cioè chiamo di nuova la vostra attenzione ciò che vi qualifica e vi realizza come esseri umani che è l'amore perché noi al di fuori dell'amore non siamo nulla ricordatevi lino alla carità come finisce fede speranza e carità ma di tutto è più grande è la carità è l'amore quindi questo comandamento è il fatto che al nostro cuore deve essere presente nel Deuteronomio si legge così quando c'è Scema Israele ascolta Israele e lì c'è il comandamento il Signore è l'uno solo amerai con il tuo cuore con il tuo prossimo e amerai come te stesso non è per il completo il Signore è unico Dio amerai con il tuo cuore e amerai con tutto te stesso il Signore non parla del prossimo perché il prossimo sarà il libro del Levitico però dice questo comandamento tu te lo metterai in mezzo qui ai tuoi occhi provate a mettervi però lo deve fare per favore fate col dito indice così in mezzo agli occhi gli occhi diventano strabici no? perché guardano cercano di guardare il dito quindi se tu metti una cosa qui in mezzo ai tuoi occhi tu la guardi sempre anche se è molto distorto però la guardi sempre tu questo comandamento il fatto dell'amore che porti lo metterai qui che sarà il punto fisso davanti a te e quindi non ti sbaglierai da questo lo scriverai dice sugli stipidi della casa così quando entrerai e quando uscirai tu lo guarderai sempre questo fatto sarai sempre richiamato ad amare perché come ho detto prima qualche volta noi ce lo possiamo dimenticare che siamo fatti per amare noi un problema però non lo tratto ma apro semplicemente una parentesi noi siamo i giovani anche noi più adulti più grandi usiamo un'espressione fare l'amore ma abbiamo frainteso tutto perché noi fare l'amore ne diamo l'atto sessuale fare l'amore è ben altro perché l'amore lo si fa ma fare l'amore significa qualcosa di più è donazione di vita allora qui la vita si apre un ventaglio proprio di da poter interpretare poi la vita e ritorniamo alle beatitudini perché la beatitudine significa io prendo seriamente la vita e non mi rassegno a che la vita vada così la beatitudine dice il non rassegnarsi perché anche qui noi ci siamo troppo rassegnati ci siamo rassegnati a non essere la differenza ci siamo rassegnati a non essere luce ci siamo rassegnati a non essere la e la così ci siamo rassegnati a che toccano il crocifisso ci siamo rassegnati a che non si possono le campane ci siamo rassegnati a che dobbiamo rispettare tutti quanti sì è giusto che bisogna rispettare gli altri ma non rinunciando al fatto che mi possono schiaffeggiare però a chiedere ragione quindi attenzione non si tratta di passività il cristiano il credente non è passivo Gesù non è mai stato passivo ricordate nel tempio cosa farà a un certo punto farà le cordicelle e caccerà tutti fuori dal tempio avete fatto nella casa delle padri mie una spelunca di latri si tratta però ecco di vivere di cogliere una giustizia e attenzione l'abbiamo visto l'anno scorso vi date il sorridire della misericordia giustizia non è ognuno è suo ma giustizia è che mi rapporto con te nel momento in cui mi rapporto con te ti rendo giusto nonostante che non lo meriteresti però ti rendo giusto e quindi vedete ancora una volta io non mi lascio condizionare da quello che c'è stato se è vero se è vero che sono chiamato a realizzarmi in relazione anche con te non so se ho risposto niente niente Grazie. E' un dramma, un grande dramma, perché noi siamo bravi a parlare, perché adesso che sto nel pieno delle forze dico che la sofferenza, il dolore è un modo attraverso il quale io dico anche il mio Signore. Il problema è che se mi trovo nella sofferenza. Però io sono convinto sempre di una cosa, qui ne parlo un po' anche per esperienza personale. Io presso mio padre avevo 21 anni. Come parroco poi l'ho sperimentato anche questo. Quando vivevo dei funerali, anche se c'era una malattia grave di qualche ragazzo, qualche giovane, se con la famiglia c'era un certo cammino di conoscenza del Signore, il dolore, la sofferenza, anche la stessa morte, la si vive diversamente. Io penso che faccio, perciò dicevo prima, no, il segreto dove sta? Gesù che sale sul monte e i discepoli si avvicinano a lui. Perché se io Gesù non lo conosco, chiaramente io del mistero anche della vita, prima ti direte il mistero della morte, il mistero della vita, io non l'ho capito. De quello della vita. Se è vicino a Gesù io non mi sono mai avvicinato. Se riconosco in lui la fonte della vita. E quindi automaticamente in quella comunione con lui, allora io, perché voi fateci caso, sapete no, la Sacra Scrittura non spiega il male. Stranamente, noi non abbiamo nessuna spiegazione nella Bibbia dove ci venga detto il male perché. E Gesù stesso neanche lui l'ha fatto. Però ha fatto una cosa, si è fatto solidale con quelli che erano nel male. Addirittura assumendolo in se stesso proprio il male. Allora io, con tutto il rispetto a quel giovane, ho tantissimi atti che ci sono e che chiedono poi la fine vita. Io vorrei chiedere, però ripeto, qui entriamo ancora una volta sempre in un'accademia, cioè vorrei chiedere qual è stato il tuo rapporto con il Signore? Diceva, vabbè, cambierebbe qualcosa. Io penso che cambierebbe qualcosa. Io dicevo ai bambini qualche domenica fa, proprio sul Vangelo che abbiamo ascoltato, no? Il fatto del minimo non uccidere, chi avrà ucciso. Dicevo, che significa uccidere? No, se prendiamo la pistola, uccidiamo. E io ho detto ai bambini, voi avete ucciso qualcuno? No, quindi non siamo peccatori. Quindi nessuno ha fatto questo peccato qui. E però Gesù ci fa capire che non è solo l'uccisione quella lì. Allora io spiegavo ai bambini, anche se io mi prendo una caramella del mio amico che sta a scuola con me e me la prendo e non glielo dico, io mi l'ho messo, in quel momento ho rubato. E se io dico pure una parolaccia così, è comunque che ho detto la parolaccia. Cioè noi abbiamo troppo minimizzato facendo finta di niente. E quindi facendo finta di niente, alla fine, se ci siamo risicondo, la nostra vita è diventata niente. Ora è vero, che senso ha una vita che sta in un letto, che non può vedere, non può parlare così? Io potrei chiedermi che senso ha la mia vita, senso solo perché adesso sto parlando qui a voi? O perché posso produrre qualcosa? Papa Francesco qui direbbe, parlerebbe di quelli che non possono produrre, sono lo scarto. Quante persone in mezzo a noi, nelle nostre comunità, non producono niente? Eliminiamoli. Sono parassiti. Quante persone nella Caritas? Eliminiamoli, perché la loro vita non ha senso. Il senso, allora mi viene dato che cosa? Noi non lo dobbiamo dimenticare, noi siamo conformati. Quindi, ripeto, è difficile perché noi ne parliamo stando bene. Noi siamo chiamati a conformarci al mistero di Cristo, crocifisso e risurdo. San Paolo direbbe, noi ogni giorno siamo messi a morte. Però dipende, al mio orizzonte cosa c'è? Perché se al mio orizzonte c'è, allora io affronto questa realtà diversa. Eppure qui, adesso faccio riferimento alle vostre esperienze personali, provate a vedere se non c'è stato un rapporto profondo con il Signore, anche in qualche sofferenza particolare, chiaramente non riesco a mal di pancia, o che mi fa male il molare, con una sofferenza particolare che sembrava assurdo, impossibile. Se c'è stato quel rapporto col Signore dove sono salito con Lui, ma non salgo però con Lui quando nel momento del dolore, perché noi Cristo non lo conosciamo e non lo posso conoscere nel momento del dolore, perché lì bestemmerò solo. Allora, se io l'ho conosciuto, allora potrò anche permettermi il lusso di potergli dire questa cosa non l'ho capita, fammela capire. Oppure addirittura, e questo è il dono di grazia, io potrei anche capire. No, c'è, c'è la via. La via. La via. La via. La via. Io rispondere in questo modo. Il Signore si è dimenticato di te, va bene. Tu ti sei ricordato del Signore. Allora, se ti sei ricordato del Signore, e se ti ricordi del Signore, allora sai anche che il Signore di te non si dimentica. Sai anche che il Signore di te non si dimentica. Sai chi è che si è dimenticato di te? Dovremmo aiutare queste persone a far capire. I fratelli. La comunità. Perché una comunità che non è attenta alle sofferenze degli altri, deve interrogarsi molto. Quindi il problema è questo, non è che è Dio assente, siamo noi che siamo assenti. Perché il Signore, per un mistero particolare, nel momento in cui ha creato l'uomo, ci ha donati gli uni agli altri. E' facile dire, ma o Signore, o Signore. Perché se noi chiediamo con un'unità, Signore, ma tu dove sei? Signore ci risponderà, ma tu dove sei, non io dove sono. Perché altrimenti significherebbe che il Signore diventa, e noi vorremmo questo molte volte, no? Diventa quello che si impone, per cui mi prende così, no? Allora, io uscendo di qui stasera, quando noi usciamo dalla Chiesa, io perciò ho detto prima, no, le parole, le parole dobbiamo cogliere, questa parola, dobbiamo cogliere veramente come la parola. per dire effettivamente, ma Signore, sale, non a me stesso, o al mio fratello. Ma che senso ha che io parlo con Ernesto così, di questo? Non ha senso. Perché Ernesto, tra virgolette, sale, già ce l'ha. Quindi devo andare a quel sapore, proprio a quella realtà. A quella realtà lì, devo andare a dire, che diventa difficile per me, perché poi mi rendo conto che chi sono intrepellato sono io. Allora, lì proprio non ci vorrei andare. Io ho visto un posto, no? Adesso su Facebook, sapete, ogni tanto arrivano questi posti, ci sono alcuni che ti provocano molto. C'è un bambino in una pozza d'acqua. Dice, che umanità è la nostra se si va a sperimentare, se c'è acqua su Marte e non si riesce a vedere dove manca l'acqua sulla Terra? Non è un posto cristiano quello. E' un posto proprio di attenzione alla realtà. Qui c'è questo bambino, lì in questa pozza d'acqua. Perfettivamente. Noi andiamo a vedere se c'è vita su altri pianeti. E tra di noi non sappiamo vivere. Però andiamo a vedere se c'è l'altro pianeta della vita. Grazie. 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 Io ho cercato di dire che Poggio l'altro a guancia non è materialmente mi rendo lì disponibile, ma mi rendo disponibile a un dialogo con te. No, 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 è una sciocchezza. È una sciocchezza, sì. Il fatto di Poggio l'altro a guancia, cioè mentre tu mi stai facendo del male io sarei portato istintivamente a farti del male per difendermi. Invece la prima difesa potrebbe essere proprio questa qui da intendere, da comprendere. Cioè io dialogo con te perché voglio metterti in condizione di farti rendere conto che tu stai facendo del male. Anche nel comune delle altre religioni. Il discorso vale lo stesso, vale così. Senza dimenticare che nonostante questo Gesù Cristo con i sacerdoti ha dialogato. Poi è stato deciso che doveva morire. Quindi non significa che solo perché dialogo ok, poi alla fine ci andiamo a mangiare pure la pizza insieme. Quindi forse l'altro resterà nel suo male. Però forse io ho insinuato qualcosa dentro nel cuore. Questo non lo so. Però quello che è chiesto a me è di non rispondere al male con il male. Se io credo che quello è un male. E non posso illudermi o pensare che con un male io poi possa trarre del bene. Perché dal male non si trarre mai il bene. Purtroppo abbiamo molto altro questa tentazione, no? Quella della forza. E ricordate, nell'ascolteremo la prima domenica di Quaresima, le tentazioni, quando il demonio è proprio questo, dice Gesù. Gli chiede qualcosa di impossibile la forza. Prostrate ai miei piedi e tutto quello che ho io te lo do a te. Buttati giù, manda i suoi angeli a prenderti. Dì che questa vita diventi pane. Cioè, fa qualcosa, fa tutto questo che tu vuoi fare, fallo per te. A tuo vantaggio. E vedrai allora che bello, che spettacolo diventeranno. E come gli altri, ah, tu vuoi mettere, uno si butta, si vede là e viene preso mentre sta cadendo te le si sfracella. Però gli spettacoli non hanno mai convertito nessuno. Beh, ringraziamo il Signore. Non è proprio tanto la battuta, non è stato che ringraziamo il Signore. Io questa sera non tanto mi sento di ringraziarlo, proprio per quello che ci ha detto, la parola sua canzone, dice Signore, sapete qualche volta dice così, meglio essere sordo di non aver ascoltato. E' quella che ha suicidato con le nostre vincenze. Eh, beh, sì, quella è una video, però diciamo così per dire, qualche volta, sapete che prece, una preghiera, la Signora prima diceva in quella casa, e non dico, perché sempre, sempre da me, ecco, c'era un libro particolare, proprio molto drammatico, sapete, gli ebrei sono il popolo eletto. Però gli ebrei, avete visto, quelli che hanno subito negli anni, i millenni. Allora, c'è in questo, quest'autore di questo libro, adesso non ricordo di nome, mi sfugge, dice, viene intervistato, dice, ma voi siete il popolo eletto? E lui risponde, non è il momento che il Signore si elegga a un altro popolo. Frase forte, veramente forte. però forse quell'autore sta dicendo ancora una volta che forse è la sua professione di fede, sta dicendo in questa frase così, quella che noi chiameremo bestemmia qualche volta, no? Non lo dico perché stiamo registrando, bestemmia non è una professione di fede, però forse qualche volta, chissà, se quella disperazione in quel momento in cui sta bestemmiando, se non sta forse chiedendo aiuto ancora più forte e sincero poi a Dio, chissà. Grazie. Grazie.